Dopo le settimane in ospedale sono tornati in natura. Tre animali, soccorsi in tempi diversi, sono stati liberati nella giornata di ieri da parte della polizia provinciale dopo essere guariti grazie alle cure del veterinario Uberto Calligaric e della moglie Alessandra. Il primo paziente era uno smergo maggiore, un esemplare giovane che da adulto avrà una magnifica livrea bianca e verde scuro. Questo volatile popola solo da pochi anni il lago maggiore. È stato soccorso a Villa Lesa e era stato trovato paralizzato a causa di una tossinfezione. Parliamo ora di un animale poco comune, una martora maschio. Era in stato comatoso nei pressi dell'abitato di Omenia a causa dell'ingestione di topi avvelenati. Ha avuto la fortuna di incontrare il signor Fabrizio Capris che gli ha salvato la vita contattando gli enti competenti per il soccorso. Un evento, dicevamo, raro l'incontro con una martora. Basti pensare che nella pluridecennale esperienza del dottor Kaligaric con la fauna selvatica, questo è il secondo esemplare che viene sottoposto alle sue cure. Animali inusuali dunque ma anche più diffusi abitanti dei nostri boschi e delle nostre montagne. È il caso dell'ultimo paziente dimesso, un simpatico ghiro ferito dagli artigli di un gatto e tornato ora in perfetta forma. È la dimostrazione di come anche un piccolo e comune eroditore sia sempre degno di attenzione.